Ciao, benvenuti alla pillola, l'appuntamento del mercoledì dei libri della settimana che ho letto, di quelli che sto leggendo e di quelli che vorrò leggere appena avrò finito di leggere quelli che sto leggendo. Avrei voluto questo video con un tono diverso, più simpatico. Mi ero preparata per essere allegra, mi ero preparata il quaderno degli appunti, mi ero preparata per oggi, è una brutta giornata, oggi è una giornata triste e non me la sento di fare la scema, cioè sì, me la sento di fare la scema per esorcizzare, ma no adesso. Non volevo neanche fare il video in effetti, però lo farò, lo farò perché appunto voglio esorcizzare il dolore, non lo so, lo faccio e basta. Ok, allora, che cosa hai letto? Questa settimana ho letto un libro consigliatissimo, Cristina Bruni come foglie sul fiume. È bellissimo, 7 stupendo, è una storia d'amore meravigliosa, dedicata a tutti quelli come me che sono fuori posto. Libro super 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 bellissimo e consigliatissimo. Poi ho letto un manga, una seconda puntata di un manga che sto seguendo e che si intitola Otokonoko Nokoto Wananimo Shiranai. Il colpo di scena della seconda puntata è il dolore del tizio al quale non diventa duro. E non vi dico altro. Poi ho letto il post di Mascha.gif e ti consiglio un libro, anzi 10. dei quali ho ripreso appunti di libri che lei mi aveva detto in privato, leggi, 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 e che io purtroppo ho passato il tempo e ancora non ho letto, letto, letto. E vi dico, dimmi tre segreti di Julie Buxbaum, che ve l'avevo anche parlato. Poi gli effetti collaterali delle fiabbe di Anna Nicoletti, Nicoletto, il controllo, il contratto di Elle Kennedy è tutta colpa della pioggia di Angela Contini o tutta la pioggia del cielo. perché tutta colpa della pioggia è stato l'appunto sbagliato che ho preso. L'ho cancellato e poi non ho. Tutta la pioggia del cielo di Angela Contini. Dal poste e meme d'intorni mi sono segnata un'anteprimatrice che esce il 31 agosto di Kat Grant. La prima cosa che verrà. C'è una nuova serie. Praticamente il libro mi piace perché la copertina è figa e anche perché parla di un prostituto che si innamora del cliente. Ora, conoscendomi, chi dubiterebbe mai che io non voglia leggere questo libro? Non so in quanti mondi ho stuprato l'italiano, chiedo scusa. E c'è il vento, bellissimo. Ho appena finito di leggere il libro di Pippa e Cross, La colpa e il desiderio, di Sarah McClean. Finito il video e postato il video, dopo mi occuperò di scriverci un pensiero sopra anche se non so cosa scrivere, a parte leggetelo, leggetelo, leggetelo perché Pippa è stupenda, è la donna che tutte vogliamo essere. Pippa è meravigliosa. E Cross e Vestrappamutande, ve l'ho già detto nel video ieri. Riprenderò Dimmi di sì di Kea Mitchell fino alla fine e poi sceglierò di leggere o l'anteprima Driespinner Game Street di John Simpson che esce il 30 agosto, oppure come Foglio sul Fiume l'ho letto, Dimmi di sì, lo sto leggendo. Non lo so, suggeritemi qualcosa. Penso che sceglierò uno dei libri che ha consigliato mascia.gif nel suo post. Ti consiglio un libro, anzi 10. Lascerò il link del post in questione nell'info box. Così se volete andare a consultarlo, andate. Per tutto il resto vi auguro buona settimana, buona lettura e che il buon Dio abbia pietà di noi e ci protegga. Ciao!